Effetto natale sul ponte dell'Immacolata, ma se la perturbazione che ha investito il nord-est durerà ancora fino a tutto martedì, il paesaggio è destinato a cambiare molto presto. Complice lo scirocco e il rapido innalzamento della temperatura, la neve lascia spazio alla pioggia che sarà abbondante in tutti i settori. La neve continuerà a scendere, ma solo sopra i 1000 metri e poi sopra i 1400 metri, mentre potrebbe fare la sua comparsa l'acqua alta, per effetto delle mareggiate che investiranno le coste. La fine dell'autunno riserva molte sorprese, ma per fortuna la nevicata ampiamente annunciata ha trovato i comuni e i gestori delle principali vie di comunicazione pronti con sacchi di sale e mezzi spazzaneve, e così la settimana lavorativa ha potuto iniziare senza particolari difficoltà. La domenica imbiancata ha reso invece magico per qualche ora il paesaggio già fantastico di Venezia, ha coperto gondole e calli, ma è scesa anche abbondante nella città di Giulietta, imbiancando Piazza Bra e l'Arena. In montagna è caduta invece abbondante e continuerà a cadere copiosa regalando scenari incantati e piste da sci perfettamente innevate, preannunciando una stagione che dovrebbe finalmente andare a gonfie vele.